Una barra bianco-rossa con lo stemma dell'Ane sommersa di sciarpe per l'ultimo viaggio. Ad accoglierla fuori dalla chiesa di Solagna, le bandiere schierate e gli applausi dei compagni di mille trasferte. Sicuramente la finale di Coppa Italia a Napoli è stato uno dei momenti più alti. Quella volta al San Paolo non bastò una bomba carta lanciata nel settore ospiti per fermare Mario Dalbianco per tutti Bissa. Menda che gli calzava a pennello per l'abilità nello sgusciare tra gradoni e parapetti in tutti gli stadi d'Italia. Per dare l'ultimo saluto all'ultra prematuramente scomparso a soli 59 anni sono arrivati anche da Udine. Abbiamo fatto tante occasioni extracalcistiche, pasquette, compleanni. È un pezzo di storia secondo noi che se ne va. La sua casa era la curva a sud del Menti ma Mario non era soltanto un super tifoso del Vicenza Calcio come del Bassanokei. Era anche un uomo dal cuore d'oro molto legato al suo paese. Ha sempre aiutato tutti e ultimamente adesso che è andato in pensione aveva cominciato a seguire anche i lavori sulla chiesetta di San Giorgio assieme agli amici di San Giorgio. Gero uno molto puntuale, ci andava sempre. PS, non so se in paradiso tifano Vicenza ma sicuramente se regali una sciarpa bianco-rossa al Signore non ti dirà di no.